C'è festa in casa del West Ham dopo la promozione in Premier League. La squadra londinese si riporta nella massima divisione inglese dopo la vittoria contro il Blackpool nella finale di play-off giocata a Wembley. Vittoria importante per gli Hammers non solo sul fronte morale ma anche su quello più decisamente veniale con entrate di 90 milioni di sterline. E' la West Ham ad aprire le marcatura al 35esimo con Carlton Cole. Risponde il Blackpool subito dopo l'intervallo con Thomas Ince ma a tre minuti dal termine ci pensa a vaste con una confusione da distanza ravvicinata a riportare la squadra nella massima categoria inglese dopo solo un anno dalla retrocessione nella divisione cadetta. Credo fosse questo il piano di Sam Allardyce. La strada che volevamo intraprendere era quella di essere promossi da campioni della championship o perlomeno essere promossi automaticamente. Credo che Sam abbia voluto perdere alcune partite per poi vincere nel play-off e godersi questa giornata. Lo ucciderò per questo ma è stato un giorno fantastico, non c'è modo migliore di finire così. Devo dire che ai miei giocatori oggi non potevo chiedere nulla di più, sono molto orgoglioso della mia squadra e credo in quello che stiamo facendo e nel futuro di questa società. C'è quello che stiamo facendo e in quanto stiamo facendo e in quanto stiamo facendo.